Ma questa iniziativa è solo la prima, è solo un assaggio, è solo un seme che abbiamo voluto piantare, bisogna fare molto sull'agricoltura. Sull'agricoltura nei passati 5 anni, nella passata consigliatura, diciamo che abbiamo fatto veramente poco. Il Covid non ci ha permesso di poter andare avanti su certe progettualità. Quindi adesso in verità ho voluto fortemente la delega all'agricoltura, alle frazioni, alle politiche per le frazioni alte, proprio perché volevo dare maggior impulso in una materia che mi piace molto e sono anche le mie origini, le origini di buona parte del nostro territorio. E poi credo fortemente che lo sviluppo agricolo possa portare anche a uno sviluppo occupazionale, possa imbiegare i nostri giovani in agricoltura. Una due giorni dedicata al turismo rurale, all'agricoltura con le vie dell'olio. Il programma della manifestazione che si svolgerà da sci a capoluogo presso il palazzo De Domenici Serici, vedrà domani, 31 ottobre, la presentazione del programma delle finalità e dei produttori e a seguire un incontro pubblico sul tema agricoltura e turismo rurale, ritorno al futuro. Il primo novembre, alle 10.30, Carlo Levi, l'acqua sotto i ponti, il divenire, narrazione di e con Andrea Jovino sulle prospettive di futuro che derivano dal corso della storia e dalla capacità di liberare futuro grazie alle elezioni del passato e a seguire visita guidata ad un frantoio con la degustazione di prodotti tipici del Cilento, poi l'incontro dibattito sul tema il lavoro in agricoltura tra passato, presente e futuro. Nel corso della manifestazione, produttori locali presenteranno i loro prodotti e le storie delle proprie aziende. La manifestazione è organizzata dalla BIMED in partnership con il comune di Ascea. Abbiamo questi due giorni che veramente sono un momento importante per la nostra comunità, ma soprattutto vogliamo mettere in campo immediatamente quelle che sono le politiche agricole del nostro comune, quello che abbiamo già inserito nelle linee programmatiche di mandato e quello che adesso ci accendiamo a portare avanti per dare dei risultati.